Musica 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 Che si capote ne è che durante la vita ci sta due tempi di stimola ci sta quello che è stimola sa da essere stimola ci sta a sé ci sta un'altra chi è stimola non lo sa non lo sa non lo sa perché adesso le cose non lo capisci e voglio farlo dire e questo è stimola a moda loro a moda loro proprio tu mi ha circondato con Socrate che diceva che non c'era peggior male dell'ignoranza non c'era peggior male di chi crede di sapere invece non quindi ci sta due qualità di stimola e questo è quello che è stimola ci sta adranco e la parte non lo capisci e questo è quello che è stimola non lo sa non lo sa Musica 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 Musica